Prossimo, una domanda da parte di Beatrice. Buongiorno carissimi, la pace e la grazia del Signore siano con tutti voi. E anche con te Beatrice, che bel nome che hai, Beata sei tu. Sto molto meglio con la salute. Gloria. Amen, grazie fratelli per tutte le vostre preghiere, del gruppo di preghiera anche nelle dirette abbiamo pregato per lei e ringraziamo Dio che sta meglio perché è andata diverse volte all'ospedale. La domanda è, piuttosto a volte mi scoraggio nello spirito e di solito cerco di superare tutto leggendo la parola e ascoltando le vostre registrazioni. Spesso mi sembra di essere inutile. Parlo di Gesù con chi mi circonda, cerco di evangelizzare ma continuo ad essere sola. Perché una cosa è che una pecorella mi dica di aver ricevuto conforto dalla parola, di aver imparato a rivolgersi al Signore con parole proprie e di averlo ricevuto nel cuore e un'altra è che mi dica di voler cambiare completamente vita, di voler lottare per Gesù, di essere disposta a venire con me ad evangelizzare e questo ancora non è successo. Perciò a volte mi sembra di aver fallito. Non ti capisco sorella, ci sono passato, anche in questi fallimenti. Non c'è fallimento che io ne sono passato, scoraggiamenti, dove sono le pecore. Oh quante volte mi sono sentito solo e sai ho dovuto farci il callo. Adesso c'è una comunità meravigliosa, gloria a Dio, ma mia vita non è sempre stata così, sai. È passato un momento in cui io da solo, solitario, avevo veramente solo Gesù. E quelli che dovrebbero dovuto aiutarmi invece magari mi criticavano. Gesù mi diceva, vai avanti. Mi hanno criticato anche a me, vai, vai. Angela. Sì certo, io sono ben lontana dall'essere perfetta, però ho capito che bisogna avere il cuore veramente spezzato per decidere di diventare veri cristiani, per seguire veramente Gesù, per metterlo davvero al primo posto nella propria vita. E forse io non ci riesco sempre, ma cerco di metterci tutta la mia volontà e il mio cuore. Brava, bravissima, bravissima. Mi ricordo Matteo 13, infatti tu dici che non riesci a trovare persone che sono disposte a unirsi a te, a donare il Signore, a amare il Signore e andare a evangelizzare. E guarda, è così la lei, infatti, è proprio così. Deve essere il Signore. Però se tu ci metti tutto il tuo cuore, il Signore ti benedirà, ti farà trovare le persone giuste. Guarda, in tutti i miei anni di missionario devo dire che ho imparato una cosa. Trovare i discepoli, trovare i discepoli e il cuore pieno è come... Hai trovato quella scrittura in Matteo 13? 45 al 46, devi leggere. Ok, Matteo 13, 45. Il Regno dei Cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, è trovata una perla di gran valore, se ne è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Qui Gesù dice che il Regno dei Cieli è come un mercante. Sì. E questo mercante si vende tutto perché ha trovato una perla. Quindi capisci com'è rara una perla. Tu, Beatrice, sei una perla e tu sei rara. Capisci? Infatti il tuo secondo nome è Beatrice rara. Beatrice preziosa. Capisci? Come te ti stai rendendo conto quanto preziosa tu sei. Non ce ne sono molti. Le chiese sono piene di gente di usignoli e uccellini che cantano nella gabbia. La gabbia è la chiesa, gli uccellini sono le cristiane che cantano. Va bene. però che escono dalla gabbia. Cioè i pastori non aprono le... Molti pastori non aprono la porticella a far uscire gli uccellini a cantare nelle strade e salvare anime. No. Purtroppo tanti di loro tengono la porta chiusa. Guai, sei usciti di qui e andate all'inferno. Invece no. Dovrebbero destrarre gli uccellini a volare fuori e poi se la tua chiesa vale quello che dice di valere tornano. Le mie pecore, ascolti mia voce, tornano. Va bene. Quindi gli uccellini è come una perla preziosa. Vai, continua a cercare. Vedrai che troverai. Io ho trovato delle perle preziosi. Qui c'è Angela. È una perla preziosa. Oh. Va bene. E anche tu troverai perle preziosi che ti accompagneranno. Andiamo Angela. Sì, Giuseppe sai che tanti fratelli scrivono proprio queste parole che nell'evangelizzazione mi sembra di aver fallito e mi ricordo anche io prima di venire a Sud America in diversi paesi dell'Europa evangelizzando spesso mi sentivo così impotente e frustrata perché la gente non vuole Gesù e mi sentivo come una fallita nell'evangelizzazione come se la colpa è mia perché non so come parlare come convincerli come portarli a Gesù io sto falendo Dio e questo succede a molti fratellini che ci scrivono con il cuore piangendo perché vogliono evangelizzare vogliono dare la salvezza però non sanno come e questo succede anche a Beatrice cosa si può fare? Devi continuare a evangelizzare ti posso dire quello che ho fatto io io non è che ho una formula però so cosa vuol dire sentirsi soli col diavolo che è vicino che ti condanne e dice non vale niente hai sbagliato tutto non vedi che non trovi pecore nessuno ti vuole ascoltare lo so lo so caspita e devi come un soldato sul campo di battaglia devi sviluppare i muscoli devi metterti a muso duro a testa dura contro il diavolo a cuore aperto con Gesù il cuore mantenere lo soffice Gesù ma la testa dura la spada forte sul diavolo combattere questi dubbi non ascoltarli è sempre fedele con la parola memorizzarla predicarla meditarla la mente deve essere lavata e costantemente con la parola o almeno con l'odare il Signore sempre positiva Filippesi 4.8 va bene? va bene e continua ad andare avanti continua continua vai però vedi Gesù ti dice anche Beatrizia il mio gioco è facile il mio carico è leggero cioè il Signore non vuole che tu ti fai scoraggiare del diavolo perché non trovi pecore al diavolo non gli interessa niente che trovi pecore non vuole che le trovi quindi se lui ti condanna che non trovi pecorelle è una scusa è falso è una bugia quello che in realtà sta cercando di fare non è farti cercare pecore ma scoraggiarti il diavolo gli interessa deprimerti non gli interessa che vai a cercare pecore quindi non lasciarti deprimere e quante volte io girando per le strade a volte con altri fratelli a volte da solo arrivavo in un posto c'è una fontana c'è una panca mi sedevo e chiedevo Gesù aiutami ho bisogno di forze ho bisogno e Gesù sempre veniva e quando poi ho scoperto che quando mi mettevo a riposare ero stanco fisicamente però mi rendevo conto che dopo che riposavo per esempio un pochino dopo che mi ero riposato ero ancora depresso abbattuto triste e mi sono chiesto come mai che mi sono riposato ero stanco adesso sono bello riposato e il Signore mi ha mostrato che quando mi riposavo fisicamente su una panca in giro mezz'oretta in un parco o a casa che mi corri un po' dieci minuti a volte un po' venti minuti a volte il Signore mi ha mostrato che quel tempo lì che il mio corpo la mia carne si riposa devo anche leggere la parola devo anche ascoltare la parola devo anche leggere un bel capitolo devo anche ascoltare un bel audio un insegnamento un capitolo del Vangelo un qualcosa quindi sempre essere armati sempre avere nella borsetta nella tasca un po' di cibo come sai quelli che vanno a lavorare io quando lavoravo e alla mattina mia madre mi preparava da mangiare e me la portavo impacchiatato al mezzogiorno mi frenava e mangiavo mi portavo il cibo e così devi fare perché le pecore sono animali che ruminano quindi quando vai fuori sempre portarti qualcosa che stai leggendo studiando qualche audio qualche cosa che così mentre la tua carne si riposa quando dici ok adesso devo alzarmi che devo andare devo proprio andare adesso però il tuo spirito anche se è riposato rifocillato rinforzato ispirato sei sorridente sei felice la forza viene di dentro quindi ho imparato questo non potevo riposarmi solo fisicamente dovevo anche contemporaneamente sintonizzarmi con la parola con Gesù e funziona alleluia allora questo scoraggiamento viene sempre dal diavolo non da Dio questo fatto che ci sentiamo a forse come falliti nell'evangelizzazione sempre dal diavolo e dobbiamo dire al diavolo allora guarda io sto evangelizzando in ubbidienza al Vangelo e non vedo risultati qual è l'alternativa? di non evangelizzare vedrò più risultati allora quindi tra i due ubbidire senza risultati e non ubbidire sempre senza risultati cosa è meglio? ma il diavolo degli niente tranne scaccialo non facciamo discorsi col diavolo no dobbiamo convincere la nostra mente contro le parole del diavolo no sai ma neanche quello sai un pochino ma io non è come mi metto a fare discorso nella mia mente perché sai cercare di cacciare e tienere per fuori da una stanza non è intelligente è meglio accendere la luce quindi invece di parlare con la mente prego il diavolo mettiti a lodare il Signore leggi la parola mettiti a cantare o ascolta qualche canto cristiano o vai a evangelizzare insomma accendi la luce accendi la luce memorizzando accendi la luce leggendo la parola accendi la luce meditando la parola accendi la luce evangelizzando accendi la luce lodando accendi la luce pensando al Signore accendi la luce benedicendo amando un fratello una sorella capisci? anche quella è evangelizzazione certo anche amare un fratello una sorella è evangelizzazione questa è la prima evangelizzazione infatti Matteo 22 37 a 40 dice prima ama Dio secondo ama il fratello capisci? andare a dare il volantino al Vangelo l'anima l'anima da salvare questo viene terzo ma il secondo è amare il fratello lo puoi amare dandogli il Vangelo ma a volte è un fratello che è già salvato una sorella che già esce alla salvezza e allora magari è depressa è abbattuta è triste infelice o sta attraversando una giornata brutta e allora armarsi di amore Gesù aiutami riempimi di amore a volte dare nascondersi in camma da letto 5 minuti pregare Gesù riempimi di spirito bam poi esci fuori e sei solo amore amè? amè? amè comunque qualsiasi persona che evangelizza davvero e non molla e non molla sa che prima o poi incontrate anche delle pecorelle non sono tutti capre ci sono pecorelle tante tante intorno a voi sì quello che credo che i fratelli devono assicurarsi è pregare e sviluppare uno spirito di discernimento io quando quando andavo nelle strade evangelizzare guardavo io passeggiavo guardavo negli occhi e andavo e vedevo negli occhi e di solito non sbagliavo mai era la persona giusta Gesù ha detto a Matteo 10 andate a cercare le pecore non le capre d'accordo? amè avanti Beatrice dice che lei incontra pecorelle che dicono di aver ricevuto conforto dalla parola che imparano a rivolgersi al Signore con parole proprie che lo ricevono nel cuore però lei sta pregando per qualcuno disposto a dare la vita per Gesù andare ad evangelizzare insieme a lei e queste sono le perle che sono rare quelle disposte a fare questa scelta e lei vuole il massimo e allora lì Matteo 7 7 cercate troverete continui a evangelizzare e prima o poi troverai ci sono riuscito io e ci riuscirai anche tu continua la sua lettera inoltre sono stata confermata per il nuovo anno scolastico nella scuola cattolica in cui ho già lavorato e questo mi rassicura anche perché ho motivo di vedere più persone e quindi di evangelizzarle ma devo fare tutto con molta cautela la dirigente della scuola è una suora ha studiato alla facoltà teologica quindi spesso mi attacca e cerca il pelo nell'uovo nei versetti della Bibbia mi ha detto pure che certe traduzioni della nuova Diodati sono al limite dell'eresia per così diciamo sciocchezze che loro nella Bibbia hanno messo un sacco di libri e libri apocrifi andiamo mi ripete che lei ha studiato le scritture e quindi le conosce meglio di me e si perché non le cita allora deduce da parole semplici significati filosofici complicati per non parlare dei loro dogmi e le loro norme liturgiche e mi fa venire il mal di testa che Dio mi aiuti devo avere pazienza e continuare a parlare di Gesù con semplicità nonostante le sue contestazioni per questo prego il Signore di non farmi cadere di non lasciarmi andare alle discussioni che non portano a nulla e lui mi ha fatto capire che devo trasmettere alle pecorele l'amore per la sua parola l'importanza della fede in Cristo e della sua salvezza senza soffermarmi troppo sulle altre cose carissimi fratelli perdonatemi ma ho solo voi a cui confidare questi problemi aspetto qualche consiglio e vi chiedo di ricordarmi ogni tanto al Signore nelle vostre preghiere vi voglio tanto bene Dio vi benedica e vi protegga ad ogni passo un fortissimo abbraccio a tutti voi brava grazie Beatrice sei la nostra preghiera tu e vari altri guarda innanzitutto tu mi dici che questa suora ti contesta molto io ti consiglio di evitare le liti dottrinali e evita cerca di se tu lavori in questo posto a meno che non vuoi farti licenziare sarà meglio che ti comporti in modo con molto prudenza ok che ti pagano quindi hanno il diritto che tu lavori e quindi tu non è che ti pagano per andare lì a convertire la gente quindi è un lavoro di sottobanco che devi fare sì ma ci si è detto Matteo X siate astuti come serpente e dolci come colombe quindi è la tua situazione guarda io ti consiglio sii molto gentile e dolci con questa suora magari le vinci il cuore certo che ha fatto anni di teologia sai cos'è la teologia no? cioè ti fanno studiare tanti anni finché ti hanno indottrinato la religione quella che è evangelica cattolica quando vedono che hai imparato a dire sì quando i cattolici dicono sì e no quando dicono no o qualunque religione sia e loro ti danno il diploma il diploma non te lo danno se tu non abbassi la zucca impari a dire sì quando vogliono loro d'accordo questo è il diploma teologico infatti come vedi non ti cita neanche non ti sta citando nessuna scrittura magari ti citerà San Girolamo Sant'Agostino e Pimparellino tutta questa gente qui ma le scritture noi vediamo che nella Bibbia gli apostoli Gesù citavano le scritture mica citavano Sant'Agostino ti pare che Gesù va a citare Santo Girolamo Padre Pio no si cita Gesù si cita Gesù cita le scritture del Vecchio Testamento sì allora guarda se puoi casomai senza spingere però quando le leggi la Bibbia cerca di avere i riferimenti pronti cioè quando tu parli con lei cioè mostrare scrittura sì se è il caso non devi andare a bussare la porta scusa posso entrare ho bisogno di predicarle un po' di scrittura che licenziano però se vedi che lo spirito ti guida quando capita dipende dal soggetto tu devi avere le scritture pronte quindi vai vai uno due tre quattro tutte le scritture e così io faccio io ho fatto così quando era il caso di farlo non è sempre il caso però tieni presente la regola attenzione a non vincere la battaglia e perdere la guerra cioè se tu quando le scritture si danno una pecorella ricettiva però quando questa qui vuole solo litigare cioè non riuscirai mai a convincerla mai perché la Bibbia si può interpretare all'altissimo dicevo alla mormonica alla pentecostale alla battista o alla cattolica quindi la Bibbia si interpreta come uno vuole quindi non riuscirai a convincere uno che non vuole essere convinto Gesù non riuscì a convincere i farisei va bene quindi se questa non vedi che apre il cuore e si apre e si apre quindi ti consiglio di fin quando vuoi tenere il suo posto che non vuoi essere licenziato e stare tranquilla e a volte devi essere così no comunque se proprio devi se proprio hai bisogno di mostrare delle scritture scrivitele e quando al momento opportuno dici guarda eccola qui però un altro suggerimento non usare la Diodati perché se tu vai con la Diodati da un cattolico è logico che dici che tu sei protestante se vai da un protestante con la cattolica va bene allora non fai fiasco certo che la Bibbia è migliore la Diodati d'accordo ma loro non lo sanno perché loro hanno messo nella loro Bibbia un sacco di cose apocrate si loro la giudicano secondo la religione la Diodati per i protestanti l'altra di Gerusalemme per i cattolici si Gerusalemme ma io non è grossidato troppo è una buona Bibbia è una buona traduzione però diciamo gli apocrifi è un problema perché la gente crede che quella è Bibbia comunque guarda cerca di non presentarti diciamo con un atteggiamento protestante perché vedi i protestanti sono molto disprezzati in Italia da certi cattolici devi imparare a parlare dei cattolicesi con i cattolici protestantesi con i protestanti alla fine si spera se Dio vuole parleremo solamente la lingua di Gesù e della Bibbia ma questo non è per tutti c'è gente che vuole dire io voglio rimanere all'asilo e non voglio andare alla prima elementare e allora che vuole farci niente contenta tu contento tu arrivederci in primo corinzi 9 ci sono delle scritture su questo vai al 20 primo corinzi 9 20 fino a 23 20 fino a 23 con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge per guadagnare quelli che sono senza legge questa è la legge di Mosè per intenderci Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvare ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo. Va bene. Quindi quando ti stiamo dicevo devi parlare il geovese. Quando sei come mormone devi parlare il mormonese, il cattolicese, il protestantese. Perché i protestanti mica capiscono, gli evangelici non capiscono che i cattolici sono figli di Dio. Allora se tu non sei protestante e vai all'inferno, allora sbagliano. E i cattolici viceversa. Invece no, siamo figli di Dio, siamo cristiani. Dio è figlio dappertutto. Smettiamola con queste cretinate che la mia religione è meglio della tua. Gesù è meglio di te, è meglio di me, è meglio di tutti. La religione va a buttarle via. E come tornare al Vecchio Testamento perché nel Vecchio Testamento gli ebrei erano speciali per Dio. Era un popolo speciale. Mentre i pagani, i gentili no. Cristo è venuto e ha detto tutti che mi ricevono sono miei figli. Pagani e ebrei, non importa, gentili, tutto. Però oggi le chiese di nuovo hanno fatto questa differenza delle categorie. I cattolici sono speciali, gli altri inferiori. O anche i protestanti dicono lo stesso. Noi protestanti siamo salvi, i cattolici no. Quindi sono tornati a questo, che c'è uno che è speciale davanti a Dio, gli altri no. Però è sbagliato. Sì, i protestanti dicono che sono idolatri, ci hanno stato. Sì, d'accordo, ma quello lì che bisogna vedere se è quello che viene chiesto è se adoro la statua. Quello magari non frega niente della statua, anzi se la porta via gli fanno piacere. Però, diciamo, poiché non ha incontrato abbastanza evangelici con abbastanza amore, non se la sente di cambiare la religione. E anche se la cambiasse, lo stesso è sbagliato. Dobbiamo diventare cristiani. Può andare quella che chiesa vuoi, tanto Dio ama tutti. Ma si può avere comunione con qualsiasi credente sincero. Guarda, l'altro giorno eravamo in una libreria, dovevamo comprare carta per stampare delle cose. E questa donna viene da te, Giuseppe, e ti chiede, ti conosceva, sembrava che ti conosce, ti chiede delle domande. Enzo mi fa, Enzo! Mi hai chiamato Enzo. E tu hai detto, no, non sono Enzo. Però comunque hai cominciato a fare amicizia con lei. Lei è dolcissima, con tanto amore negli occhi. Le parliamo di Gesù, le diciamo cosa facciamo qui in Sud America. E alla fine lei ci racconta... No, è cominciato dal fatto che lei ci ha invitato a casa sua. Ha detto, la mia casa è la vostra, venite, facciamo comunione insieme a Gesù. E io le ho chiesto, ma tu vivi col marito? E lei mi risponde, ah, mio marito è invisibile. E dico, come invisibile? Lui, mio marito mi lascia vergine. Mi lascia vergine, dice lei. C'è una relazione con mio marito che sono vergine. 70 anni, eh? 70 anni. Sorriso, sembrava una giovane di 15 anni, sempre sorridente. E poi ci spiega che lei è una suora in clausura. Era. Era, tutta la vita è stata in monastero, però è uscita da lì per motivi di salute. Che si è ammalata. E adesso vive in una casa con un'altra donna, un parente, e comunque vive una vita consagrata a Gesù. E ci invita a casa sua per pregare insieme, per conoscerci meglio. E poi ci racconta che aveva problemi di salute, un tumore ai reni. Abbiamo pregato lì nella libreria, messo le mani sul tumore, gridato il diavolo, pregato per la guarigione. Però prima di pregare, tu Giuseppe chiedi a lei, si chiamava Norma. Gli chiedi, tu credi che Gesù ti guarisce? Lei, tutta sorridente, sì. E poi tu, Giuseppe, sapendo che era una suora cattolica, dici, ma sai che è Gesù che ti guarisce, non Maria, non la Madonna, non i Santi? E lei ti guarda con un grande sorriso, ma Maria non guarisce, non fa miracoli, solo Gesù fa miracoli. Wow. Maria, non dobbiamo adorarla, solo Gesù. Così dolce. Quindi una suora cattolica però, lei già nel cuore aveva la verità del Vangelo, perché Gesù parla ai cuori delle persone. Queste vanno le chiese, ci sono state, a lei non interessa niente. Lei ha conosciuto Gesù, che gliene frega dalle statue a questa qua. Quindi fratelli evangelici, non andate in giro con queste cretinate che i cattolici sono tutti idolatri. Non è vero, non è vero. No. Vi sbagliate. No. Sono cristiani, possono essere cristiani come voi, anche meglio di voi e meglio di me. Quindi vogliamo smettere questa cretinata delle sette, per cortesia. Amen, amen. Si vede che ha lo Spirito di Dio, non importa che etichetta ha, che chiesa, non importa niente. Si vede negli occhi la luce e l'amore che brillano, quella Gesù. Questa donna era specialissima. Amen. C'è stato uno una volta che ha detto che uno ha fatto un cerchio per eliminarlo dalla sua vita. Ha fatto un cerchio intorno a sé per escluderlo. E allora ha fatto un cerchio anche lui per includerlo. Quindi quando queste religiosi cercano di escluderci, noi includiamoli. Amen. Va bene, loro ci cacciano via e noi gli diamo amore. Amen. Ci chiamano eretici e noi li amiamo. Ci chiamano idolatri e noi li amiamo. D'accordo, è un giorno in cielo. Non è che ci sarà il campo di concentramento protestante di qua e quello dei cattolici di là. Ma stiamo scherzando. In cielo ci sarà, come dice Giovanni 10-16. O altre pecore che non sono di questo ovile, devo raccogliere anche quelle. Vi sarà un solo ovile e un solo pastore. Che Gesù è morto solo per... Per quale chiesa è morto Gesù? Per tutti, no? C'era questo pubblicano seduto sull'albero che guardava Gesù nel Vangelo. E non si avvicinava perché diceva, io sono un pubblicano, ero uno corto di statura, sai? E poi stavo anche lontano perché il fariseo è andato avvicinare che noi ci contaminiamo e tu vai con prostitute, tu le soldi romani, tu ci contamini. E Gesù passava e ha capito tutto. Avrà visto le facce dei farisei tutti santimoniosi, tutti religiosi, perfetti, sai? E poi ha visto questo qui sull'albero che magari si vergognava avvicinarsi, qualche fariseo di volte ne di qui tu, rinnegato giudeo, sai? Gli pubblicani davano i soldi ai romani e le raccoglievano le tasse. E Gesù grida, scendi dall'albero! E tutti... Perché scendi dall'albero? Oggi ho bisogno di mangiare a casa tua. E questo gli è preso uno sciocco, quasi casca dall'albero. E' un piccolo di satura, si chiamava Zaccheo. E allora cosa fa questo? Dimostra? Dice qualcosa che dimostra che Gesù aveva il discernimento giusto. Gesù aveva capito che era una peccola, in qualche modo, sai, lo Spirito Santo te lo dice. Quando vai per le strade, guarda le gente negli occhi, il Spirito Santo me lo dice, questo sì, questo no, questo no, questo no, quella là, fermo quella lì. Fermo quella, fermo questo. Tu lo sai? Sì, 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 sì. E allora cosa fa questo qui, quando sente che Gesù ha mangiato a casa sua? Dice, signore, lui sai, pubblicano, ha imbrogliato il sacco di gente, ha spremuto i soldi alle vedove per dare tasse ai romani e spremere i soldi, perché più ne spremi, i romani davano una tassa fissa. Tutto quello che i pubblicani spremevano al di sopra, se lo tenevano loro. Quindi odiati al massimo, non solo a dare tasse ai romani, come tipo Equitalia, no? Ma spremeli di più per tenerseli loro ai voglia di chiamarli spacciatori di droga e sanguissughe. erano odiatissimi. Sì. E allora questo cosa fa per dimostrare che il discernimento di Gesù era giusto? Fa, signore, la metà delle mie ricchezze, era ricco questo, ricco questo degli altri, la metà delle mie ricchezze, signore, le do ai poveri e se ho rubato qualcuno, gli ridò quattro volte tanto. Allora Gesù cosa dice? Gesù controbatte, qui c'è un discorso, Gesù gli risponde e dice, Zaccheo, oggi la salvezza è entrata a casa tua. Incredibile. Zaccheo è uno, come si suol dire, i violenti prendono il regno di Dio con la forza. Non dico se l'hai comprato dando i soldi, ma era un gesto. Un po' come il giovane ricco che Gesù gli fa, dai tutti i poveri e seguimi. E dice, no, io non do niente, mi tengo tutto. E ha detto, è più difficile per un ricco andare in cielo che per un cammello passare per la cruna di un ago. Era un simbolo, ok? E quindi questo qui, invece, ha dimostrato che si era pentito, va bene, ha regalato la metà degli averi, gloria al Signore. I farisei sono rimasti lì a bocca asciutta. Da allora non è andato a mangiare. Quindi, fratelli, apriamo il cuore. Amen. Va bene, Gesù ci chiama a scendere dall'albero, dall'albero della nostra indifferenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora anche a Beatrice, non ti preoccupare, lo Spirito Santo ti darà il discernimento. quando parlare, con chi parlare, quando evitare i liti, le discussioni, perché lo Spirito Santo è con te, è dentro di te, e ti guida. Amen. E ricordati di questo messaggio, 1 Corinthians 9, 20 e 23, molto importante questo messaggio. c'è quei giudei, giudeo, con i greci, i greco, i romani, i romani, quei cattolici, per la cattolicese, e quei protestanti, per la protestantese, quei religiosi, per la religionese. Alla fine c'è che ti portare giudice da Gesù. Quindi nessun problema andare a pregare in mezzo alle statue, alla giungla di statue cattoliche, o le panche morte dei protestanti. Nessun problema. Date amore, e alla fine però dare il messaggio di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù.